Il presunto spionaggio delle mail dei parlamentari 5 Stelle da parte della Casa Leggio Associati, una storia montata ad arte, sostiene il direttorio del Movimento, Claudia Mazzola. Scende in campo anche il direttorio, dopo Grillo, contro la presunta spy story 5 Stelle che torna a galla dopo due anni. Una storia montata ad arte dalla stampa e dal Partito Democratico, si legge nel post. Hanno paura per le amministrative a Roma, commentano i big del partito, che danno la propria solidarietà a Casaleggio. Una ritorsione del governo, la tesi del Movimento, per la nostra opposizione al decreto sui mutui per la Casa. I cittadini soffrono la fame, le banche che hanno fottuto la gente dei risparmi. Oggi ho visitato una discarica e le persone muoiono di tumore, la stampa di regime, i media di regime parlano di queste stupidaggi. Io non gli do neanche la soddisfazione, andiamo avanti per la nostra strada. Ma dare il Lai ad alimentare questa specie...